Il notaresco batte il Vasso Girardi 1-0 e si aggiudica all'anticipo del sabato in attesa del recupero di mercoledì in terra marchigiana contro il Fano. Decide una rete monumentale di Bonfiglio nella ripresa. I Rosso-Blu arrivano al Savini a quasi tre settimane di distanza dalla vittoria nel derby contro l'Avezzano. Torna tra i convocati di Bartolo che si accomoda inizialmente in panchina al pari di Francofonte. Il Vasso Girardi arriva in Abruzzo con un solo risultato a disposizione vista la classifica deficitaria. Solo due punti raccolti nelle ultime cinque gare. Da segnalare il rientro tra i titolari di Gargiulo dopo nove mesi di stop. Fischietto affidato a Gianluca Toselli di Gradisca di Sonso. Il pressing molisano mostra i suoi frutti al settimo minuto quando dopo il recupero palla sulla tre quarti Kaon lascia partire un destro ben angolato che Curtosi riesce a deviare in corner. Un paio di minuti più tardi prova ad inventare Cesaroni ma il tiro cross finisce oltre la traversa. Accendo di reazione del notaresco al decimo. Dopo il classico strappo sulla sinistra di Scipioni Marrancone manca la conclusione. Appoggia a rimorchio per D'Aloia che è calcio altissimo. Al ventesimo occasione rosso-blu con il lampo di Forcini acceso sulla sinistra dal tocco di Belloni. Il numero 11 rientra sul piede forte, il destro è piazza. Una leggera deviazione non permette al pallone di infilarsi sotto l'incrocio dei pali. E un altro notaresco rispetto all'avvio. Al ventitresimo prova a fare tutto Scipioni ma la conclusione si spegne debolmente tra le braccia di Servalli. Alla mezz'ora è Fontana a suonare la carica ai suoi con un tiro dalla lunga distanza che finisce lontano dai pali difesi da Curtosi. Al trentaquattresimo timide proteste da parte dei padroni di casa per un presunto tocco con il braccio all'interno dell'area di rigore dopo un colpo di testo effettuato da Belloni. Per Toselli è tutto regolare. Al trentottesimo corner dalla destra di Tringali, a centro area Svetta Belloni che sfiora la traversa. Con questa emozione si chiudono i primi 45 minuti sullo 0-0. Le immagini di Manuel Centurame ci portano alla ripresa. Subito una sostituzione dentro Franco Fonte per Tringali ma una disattenzione difensiva rosso-blu dopo appena 15 secondi rischia di svoltare il match. Cown si invola verso la porta. Curtosi posizionato alla perfezione salva il notaresco. Dall'altra parte Scipioni prepara bene il tiro dal limite ma la palla non si abbassa a sufficienza. La gara è tutto sommato piacevole, ricca di emozioni ma il risultato non si sblocca nemmeno al settimo sul calcio di punizione insidioso di Ruggeri. Curtosi ancora una volta è attento. Bruno non è soddisfatto dell'approccio al secondo tempo e al decimo prova a dare la scossa inserendo Bonfiglio e Di Bartolo per Daloi e Forcini. Al diciottesimo Marrancone viene lanciato oltre la linea dei difensori. Entri in area ma da posizione defilata e con lo specchio ridotto non riesce a fare meglio di così. Al ventiseiesimo Bonfiglio decide che è arrivato il momento di sbloccare la contesa e inventa una rete bellissima. Dalla fascia sinistra prepara una conclusione potente e precisa con il pallone che si infila sotto l'incrocio dei pali. Servalli non può nulla. Il notaresco prova a cavalcare l'onda positiva ma Ruggero spreca una buona occasione dopo un'ottima preparazione. Tiro troppo debole e centrale per impensierire Servalli. Dopo una fase complicata il vasto Girardi prova a tornare in avanti nel finale. Al trentottesimo Fontana si fa spazionare e prova senza successo la giocata di punta in allungo. Nel recupero il direttore di gara estrae il rosso diretto Adanto Giovanni che lascia i suoi in inferiorità numerica per i restanti due minuti di gioco. Triplice fisco del signor Toselli dopo i quattro minuti di recupero. Il notaresco batte 1-0 il vasto Girardi e si affaccia in zona playoff. Altro risultato negativo invece per i molisani. Grazie a tutti.